Allora, buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi continuiamo a parlare di ruote dentate e in particolare con riferimento al problema dell'interferenza. Infatti spesso nelle applicazioni pratiche capita per motivi di ingombro, per motivi legati alla necessità di avere un rapporto di trasmissione elevato mediante una sola coppia di ruote dentate, di realizzare delle ruote dentate con un numero di denti piccolo. Ecco, noi abbiamo già visto a proposito dell'interferenza e in particolare abbiamo considerato il caso più gravoso, il caso limite di accoppiamento a rocchetto dentiera, che l'interferenza è legata ad un numero minimo di denti. Nel caso particolare dell'accoppiamento a rocchetto dentiera abbiamo dimostrato una formuletta secondo la quale il numero minimo di denti del rocchetto, cioè del pignone, era uguale a 2 diviso se inquadro di θ, dove θ è l'angolo di pressione. Allora un angolo di pressione unificato è solitamente di 20 gradi e quindi questo numero minimo di denti è circa pari a 17. Ecco, ci sono alcune applicazioni pratiche, come dicevo prima, in cui è utile e conveniente scendere al di sotto di questo valore e nel momento in cui noi scendiamo al di sotto di questo valore sicuramente si verifica interferenza nell'accoppiamento a rocchetto dentiera. Oggi vedremo una formula che chiama in causa anche il rapporto di trasmissione perché come detto questa è la situazione più gravosa, mentre quando abbiamo a che fare con due ruote dentate il raggio di antro finito, naturalmente la situazione è meno gravosa e possiamo dimostrare una formuletta, come dicevo, che chiama in causa il rapporto di trasmissione. Ecco, mi viene in mente un esempio che forse ci è più familiare, per esempio il pignoncino del motorino d'avviamento presente nelle automobili. Allora, se facciamo un attimo mente locale su come è realizzato dal punto di vista meccanico il motore termico dell'automobile, motore termico a combustione interna, non rotativo, bensì alternativo, per distinguere da soluzioni esistenti, quelle basate sull'inizio del motore Bankel, per esempio. Ma mettiamoci nella situazione più classica, quindi abbiamo l'albero motore, motore pluricilindri e per l'avviamento, come ben sapete, l'albero motore è collegato al volano che svolge una funzione dinamica di regolarizzare il moto, svolge anche la funzione di appoggio per l'innesto della frizione ad attrito, perché la frizione in questi casi è solitamente ad attrito, monodisco, piana, e quindi il volano torna utile anche come appoggio per la trasmissione del moto dal motore alle ruote motrici. Non soltanto, noi abbiamo il problema dell'avviamento. Ecco, nel problema dell'avviamento dobbiamo far naturalmente girare l'albero motore per consentire l'avviamento e quindi l'autosostentamento in accensione del motore stesso. Per fare questa operazione c'è una soluzione meccanica che veniva utilizzata un tempo, cioè con una manuella e quindi con un azionamento manuale. Ovviamente sappiamo bene che c'è il motorino di avviamento, quindi un motorino elettrico che è azionato, alimentato naturalmente dalla batteria a bordo dell'automobile e questo motorino elettrico su cui è montato il pignoncino va ad ingranare su una corona che viene ricavata sulla parte esterna del volano. Per motivi di ingombro e per convenienza perché il volano comunque c'è perché svolge altre funzioni come detto prima, abbiamo questo ingranamento. Ecco, c'è una grande differenza di numeri di denti come potete immaginare, tra quelli presenti sul volano che ha delle dimensioni abbastanza grandi, diciamo un diametro di 30 cm per esempio per avere un ordine di grandezza, rispetto al diametro del pignoncino che può essere per esempio, sempre per avere un ordine di grandezza, un paio di centimetri. quindi c'è insomma almeno un ordine di grandezza di differenza tra il diametro della ruota motrice, in questo caso il pignoncino montato sul motorino di avviamento e il diametro della ruota condotta ricavato, come dicevo, sulla parte esterna del volano. Naturalmente questo ha uno scopo, una convenienza pratica applicativa perché abbiamo un elevato rapporto di trasmissione, ok? Un elevato rapporto di trasmissione il che ci consente di avere una grande riduzione di velocità ma in contemporanea una grande moltiplicazione di coppia che è quello che ci serve perché naturalmente noi per far partire il motore dobbiamo vincere le forze di attrito le forze di attrito che sono presenti al contatto in tutte le coppie cinematiche prima fra tutti naturalmente quella più importante sicuramente nella coppia prismatica, ok? Nella coppia prismatica che poi è realizzata dall'accoppiamento dei pistoni con i cilindri tra l'altro sono presenti anche le fasce elastiche per altri motivi e quindi naturalmente l'attrito è sicuramente rilevante oltre che in tutte le coppie rotoidali chiaramente nel supporto di banco e negli accoppiamenti delle VL con le rispettive manovelle. Quindi complessivamente dobbiamo vincere queste forze di attrito perché non c'è un carico resistente, lo mettiamo in moto da fermo chiaramente a folle quindi c'è una disconnessione tra il motore e la parte di trazione almeno che non stiamo in salita insomma però diciamo anche in quel caso utilizziamo il freno a mano ovviamente e quindi diciamo il carico resistente rappresentato unicamente dagli effetti dell'attrito d'accordo? Quindi mi serve una coppia notevole una coppia notevole con un motorino motorino perché se fosse un motore di dimensioni maggiori in termini di potenza naturalmente richiederebbe maggiore energia dalla batteria il che vorrebbe dire che praticamente la batteria si scarica ogni volta che mettiamo in moto ok? Quindi per contenere diciamo l'energia elettrica assorbita dal motorino dalla batteria e quindi realizzare un motorino piccolo ma nello stesso tempo avere una coppia sufficiente per vincere tutte le forze di attrito e quindi determinare l'accezione del motore ok? che può essere l'accezione comandato, l'accezione spontanea come ben sappiamo secondo se abbiamo un motore a benzina oppure un motore diesel ecco per fare questo appunto noi abbiamo praticamente un pignoncino molto piccolo ma molto piccolo dobbiamo comunque fare i conti con le forze in gioco che non sono completamente trascurati quindi è chiaro che piccolo di diametro, mi riferisco al diametro primitivo prima di tutto ma naturalmente con un dente abbastanza robusto da vincere naturalmente le sollecitazioni il dente come ben sappiamo è sollecitato a flessione, è sollecitato a tensione elziana come pressione di contatto e poi ci sono altre sollecitazioni legate per esempio all'usura come abbiamo visto a proposito degli strisciamenti specifici però sicuramente flessione e pressione di contatto sono le sollecitazioni più importanti quindi ho una ruota piccolina ma ci devo mettere dei denti grossi in proporzione al pignoncino e naturalmente siccome il diametro primitivo è quello che è se voi vi ricordate la formuletta che r raggio primitivo è uguale a mz mezzi naturalmente se io devo fare un dente sufficientemente grande significa che il modulo che lo caratterizza deve essere abbastanza grande ok? lo spessore del dente sulla primitiva è uguale a p mezzi ma il passo è p m quindi lo spessore del dente in primitiva naturalmente è collegato al modulo più il modulo è grande più il dente è robusto ok? e poi abbiamo l'addendum e il dedendum quindi tutto è proporzionato, proporzionamento modulare, in funzione di questo parametro che è appunto il modulo ok? quindi da un lato vogliamo un grande rapporto di trasmissione e quindi una grande moltiplicazione in coppia in modo tale da contenere l'energia assorbita dal motorino o dalla batteria per altri motivi che abbiamo accennato ma nello stesso tempo dobbiamo fare in modo che il dente non si pieghi, non si deformi per effetto delle sollecitazioni perché noi parliamo di cinematica dinamica ma naturalmente dobbiamo tenere conto anche delle sollecitazioni interne e quindi vedete che le due cose si fanno contrasto perché io ho un diametro primitivo piccolo ma mi serve un dente grande un dente grande vuol dire un modulo grande e se r uguale a mezzo da mezzi evidentemente devo abbassare il numero di denti altrimenti non c'entrano i denti che devo andare a disporre in senso circonferenziale e quindi devo abbassare il numero di denti abbassare il numero di denti vuol dire che posso scendere e solitamente scendo sotto il limite che mi garantisce un corretto funzionamento dal punto di vista cinematico cioè l'assenza di interferenza quindi cado nell'interferenza e allora come si fa in questi casi? se io per esempio ho bisogno per i motivi accennati di un numero di denti uguale a 10 io so che nell'accoppiamento peggiore dovrei avere 17 quindi sto molto sotto poi dimostreremo una formuletta che chiama in causa il rapporto di trasmissione però 10 è piccolo come numero di denti specialmente se abbiamo bisogno di un modulo sufficientemente grande per problemi di resistenza ok? e allora dobbiamo trovare una soluzione cioè dobbiamo imparare ad operare anche nelle situazioni in cui si verifica interferenze naturalmente noi dobbiamo sempre garantire che l'accoppiamento cinematico sia corretto e quindi dobbiamo sempre garantire che i profili siano coniugati ok? e allora dobbiamo andare a modificare il dente in modo tale da garantire che l'accoppiamento cinematico sia corretto cioè evitare l'interferenza e nello stesso tempo realizzare un pignoncino con un numero di denti quindi abbastanza inferiore a quello limite teorico allora ci sono delle azioni che possono essere effettuate per trovare un compromesso tra queste due situazioni che vi ho un po' raccontato ci sono dei metodi per ovviare l'interferenza fondamentalmente sono tre allora uno è basato sull'utilizzo di dentature ribassate dentature corrette oppure modifica dell'angolo di pressione l'angolo di pressione abbiamo dato per scontato anche perchè ovviamente avete fatto anche il corso di meccanica applicata quindi insomma 20 gradi è il valore standard se noi andassimo a considerare l'analisi delle forze è ovvio che questo 20 gradi va a contenere la componente radiale no? perchè la componente radiale in assenza di attrito la forza totale perpendicolare al profilo cioè è diretta secondo la linea di granamento trascurando l'attrito ok? e quindi questa componente anzi forza totale scambiata tra una coppia di denti in presa durante l'ingranamento presenta due componenti una radiale e una tangenziale quella tangenziale è F cos theta e quindi quella più grande perchè è quella che trasmette la coppia e una componente radiale che è F se in theta è chiaro che sia aumento l'angolo di pressione aumenta la componente radiale a scambito di quella tangenziale ma la componente radiale è presente perchè è presente il dente ma se ne potessi fare a meno per esempio teoricamente ritornassi al caso di ruota di frizione ok? anche se pure lì per avere la componente adagenziale naturalmente mi serve la componente radiale bene, questo che cosa vuol dire? che aumentando l'angolo di pressione peggiorno le cose dal punto di vista del carico radiale il carico radiale naturalmente la ruota dentata è sostenuta da chi? da un albero evidentemente e l'albero è appoggiato dove? sui supporti, cioè sui cuscinetti quindi naturalmente questa componente radiale si trasmette sull'albero e quindi aumenta la sollecitazione a flessione tra l'altro flessione rotante quindi parliamo di fatica più gravosa naturalmente del carico statico e a sua volta questo si trasmette anche sul cuscinetto ma il cuscinetto stesso è caricato a fatica e quindi le cose peggiorano dal punto di vista della trasmissione dei carichi dal punto di vista delle sollecitazioni bene, comunque abbiamo accennato a questi tre metodi per la risoluzione del problema a questo punto entriamo nel dettaglio e voglio in contemporanea sviluppare un esempio numerico introducendo poi le formulette e dimostrando nel momento in cui è necessario farlo però in parallelo, ripeto, sviluppiamo un esempio numerico quindi che vale anche in qualche modo da esercitazione allora i dati di questo esempio sono i seguenti allora abbiamo una coppia di ruote dentate con profilo ad evolvente che hanno un numero di denti Z1 sulla ruota potrice che è uguale a 11 un numero di denti Z2 della ruota condotta che è uguale a 15 un modulo abbastanza grande perché il modulo è uguale a 10 mm ok? 10 mm quindi vuol dire che l'altezza del dente è un paio di centimetri ok? anzi pure di più perché l'addendum è uguale a 10 mm il dedendum è 1,25 ok? quindi un dente abbastanza grande con un numero di denti molto piccolo vedete 11 e 15 esattamente come vi dicevo quindi già ci aspettiamo di avere interferenza naturalmente ok? e un angolo di pressione che è un angolo di pressione standard cioè uguale a 20 gradi va bene? ora se noi provassimo a disegnare una coppia di ruote dentate con questi dati di progetto la prima cosa da fare è andare a tracciare le circonferenze primitive va bene? quindi possiamo dire che r1 è uguale ad m z1 mezzi vi do anche i valori numerici quindi sarebbe 10 per 11 diviso 2 questo sarebbe 55 55 questi sono millimetri quindi r2 è uguale ad m z2 mezzi e quindi sarebbe 10 per 15 diviso 2 per cui questo è uguale a 75 millimetri sono i due raggi primitivi e poi andiamo a ricavare i raggi di troncatura esterna ed interna per il momento secondo un proporzionamento modulare quindi quello standard va bene? allora abbiamo che r1 esterno è uguale naturalmente ad r1 più il modulo secondo il proporzionamento modulare e quindi se il modulo è 10 questo è 65 millimetri va bene? poi abbiamo l'r2 esterno della troncatura esterna che è uguale ad r2 più il modulo e quindi è uguale a 85 millimetri e andiamo a vedere le troncatura interne quindi r1 interno è uguale ad r1 meno il dedendum il dedendum è 1.25 m e quindi qui abbiamo 42.5 millimetri analogamente per la ruota 2 quindi la r2 interna è uguale a r2 meno 1.25 del modulo e questa è uguale a 62.5 millimetri va bene? inoltre dall'angolo di pressione e dalla conoscenza dei raggi primitivi possiamo ricavare i raggi delle circonferenze basi quindi noi abbiamo che r1 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 scusate è uguale a r1 per il coseno θ e quindi naturalmente sarebbe 55 per il coseno di 20 r1 uguale a 52 sono sempre millimetri e rho con 2 analogamente è uguale ad r2 per il coseno di θ r2 è 75 per il coseno di 20 gradi e questo è 70.5 millimetri quindi ancora possiamo andare a bautare il passo quindi diciamo l'arco di circonferenza primitiva tra due profili consecutivi e quindi il passo è uguale a πm e quindi è uguale a 3.14 per 10 quindi naturalmente è uguale a 31.4 millimetri ed abbiamo richiamato anche il passo bene, a questo punto noi vogliamo andare a verificare se tra questa coppia di ruote dentate è presente interferenza allora se noi facessimo riferimento alla formuletta restrittiva dimostrata a suo tempo nell'accoppiamento rocchetto dentiera noi sappiamo che 0 a 1 minimo è uguale a 2 diviso il seno al quadrato di θ l'abbiamo dimostrato questo se andate a sostituire a θ uguale a θ 20 gradi ottenete circa 17 quindi diciamo che per stare tranquilli dal punto di vista dell'interferenza dovremmo avere 18 da 18 in pollo ok? però vedete che ci sono situazioni come per esempio questa che per altri motivi io devo avere un numero di denti inferiore con un modulo abbastanza grande per il discorso legato alla resistenza e allora questa sicuro non è rispettata perché stiamo al di sotto va bene? però è troppo restrittiva quindi se facessimo riferimento a questa avremmo quasi sempre interferenza insomma quindi dobbiamo in realtà tenere conto del rapporto di trasmissione perché il pericolo di interferenza è legato alla differenza di raggi primitivi ossia al valore del rapporto di trasmissione perché fermarestando la dimensione del pignone naturalmente all'aumentare del rapporto di trasmissione aumenta il diametro della ruota condotta fino ad arrivare al caso limite in cui il diametro va all'infinito ma nel momento in cui il diametro della ruota condotta non è all'infinito cioè non ho una grimagliera naturalmente il pericolo di interferenza è inferiore perché è legato all'intersezione della circonferenza di troncatura esterna con la linea di ingranamento cioè è legata alla posizione del punto M1 così lo abbiamo indicato sulla linea di ingranamento rispetto al punto T1 che è il punto di tangenza della linea di ingranamento con la circonferenza base ok? i profili devono avere curvature opposte come spiegato dal punto di vista cinematico essendo T1 e T2 rispettivi centri di curvature e quindi il punto di cantato deve cadere all'interno del segamento T1 e T2 se M1 cade fuori ho interferenza e questo pericolo come dicevo è legato al rapporto di trasmissione questa formuletta è troppo restrittiva adesso quindi ne andiamo a dimostrare un'altra che consente di calcolare il numero minimo di denti non nell'accoppiamento rocchetto dentiera ma nel caso generale di due ruote dentate di diametro finito va bene? e questo è quello che ci apprestiamo a fare adesso ok allora andiamo subito a fare uno schemino qui ho il centro ogon 1 della ruota 1 questo è il centro ogon 2 della ruota 2 allora andiamo a considerare una linea di ingranamento posso tracciarla dalla conoscenza dell'angolo di pressione perché questo è teta e come detto più volte questo è il punto T1 e questo è il punto T2 ok? bene allora dobbiamo ora andare a considerare la situazione che è legata alla troncatura esterna quindi questo è P0 per cui la troncatura esterna se c'è interferenza per esempio passa qui ok? cioè io avrei praticamente questo punto M1 come vedete che cade al di fuori del segnamento T1 T2 ok? e quindi avrei due profili i cui centri di curvatura cadono dallo stesso lato cioè T1 e T2 profili concavi che non sono però realizzabili come detto in precedenza per altri motivi motivi tecnico-pratici ok? qual è la condizione limite? la condizione limite è quando M1 va a finire qui ok? quindi vado a tracciare questa nuova circonferenza di troncatura esterna che fa riferimento alla situazione limite ok? che sarebbe questa in cui T1 viene a coincidere chiamiamolo questo con M star viene a coincidere appunto con M1 questa è la condizione che noi andiamo a considerare perché è la condizione limite va bene? allora se vado a congiungere questo punto con il centro della ruota 2 ok? e naturalmente questo diventa il raggio di troncatura esterna della ruota 2 questo è il raggio primitivo della ruota 2 questo è il raggio della circonferenza base della ruota 2 questo angolo è θ questo angolo è 90 gradi va bene? esattamente lo stesso ragionamento che abbiamo fatto nell'accoppiamento rocchetto dentiera sulla falsa riga naturalmente qualcosa cambia perché entra in gioco appunto il rapporto di trasmissione qui abbiamo una omega 1 e una omega 2 è importante definire ruota motrice perso perché da essi dipende la posizione della linea di ingranamento ok? abbiamo poi anche messo in evidenza parlando di continuità del moto di grado di ricoprimento appunto questo che appunto è la lunghezza del segmento del segmento di accesso benissimo allora noi possiamo possiamo scrivere questo cioè t2m1 al quadrato che sarebbe questa 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 distanza qui t2m1 che poi in questo caso è uguale a t1 deve essere uguale ad o2m1 al quadrato meno o2t2 al quadrato torrema di Pitagora niente di che facciamo riferimento al triangolo rettangolo o2m1t2 va bene? e quindi naturalmente questo cateto al quadrato è uguale all'ipotenusa al quadrato meno quest'altro cateto al quadrato teorema di Pitagora bene questo termine qui cioè t2m1 può essere espresso in questo modo perché questo è teta ma anche questo è teta perché sono rette rispettivamente perpendicolari quindi può essere espresso come somma di questi due tratti due segmenti cioè t2p0 più p0m1 ok? ma t2p0 è uguale a r1 per seno per seno di teta e quindi posso mettere in evidenza o comunque sia lasciarlo anche così per il momento quindi abbiamo detto allora abbiamo r2 per seno di teta più r1 per seno di teta al quadrato ok? questo sarebbe il primo termine questo è uguale a che cosa? O2m1 ma O2m1 sarebbe il raggio di troncatura esterna della ruota 2 che è uguale chiaramente procediamo in simbolico ad R2 più l'addendum del proporzionamento modulare al quadrato meno O2t2 che è il raggio della circonferenza base il raggio della circonferenza base è R2 quadro coseno al quadrato di teta va bene? allora adesso dobbiamo andare a sviluppare ok? quindi abbiamo R2 quadro sen quadro di teta più R1 quadro sen quadro di teta più 2R1R2 se il quadro di teta uguale R2 quadro più A quadro più 2R2A meno R2 quadro coseno al quadrato di teta quindi R2 coseno al quadrato di teta va bene? ok andiamo avanti quindi R1 quadro sen quadro di teta sarebbe questo termine poi vado a considerare R2 sen quadro come vedete è R2 cos quadro che porto al primo membro quindi qui avrei un R2 quadro in evidenza sen quadro teta più perché l'ho portato al primo membro cos'è il quadro di teta bene? ok questo termine lo scriviamo così com'è quindi 2R1R2 sen quadro di teta e lascio a secondo membro e lascio a secondo membro lascio a secondo membro sì R2 quadro più A quadro più 2R2A naturalmente naturalmente questo è uguale a 1 perciò un R2 quadro e un R2 quadro che vanno via va bene? ok quindi a questo punto posso fare questo ulteriore passaggio quindi R1 quadro se quadro di teta che metto in evidenza questo moltiplica 1 più 1 più qui rimane un 2R2 diviso R1 e questo è uguale A quadro più 2R2A va bene? ecco questa non è la formula finale ma conviene diciamo incogniciarla perché ci torna utile successivamente partire da qui piuttosto che di partire completamente dall'inizio come è fatto ora ok a questo punto andiamo a tener conto di questo del rapporto di trasmissione allora in questa formula si fa riferimento a questa definizione del rapporto di trasmissione cioè tau è uguale a omega 2 diviso omega 1 quindi il valore inverso di quello che abbiamo considerato fino ad ora allora per congruenza con la formula utilizziamo anche noi questa definizione quindi la omega di uscita su quella di ingresso va bene? ma insomma l'uno è l'inverso dell'altro quindi non è un grande un grande problema naturalmente siccome noi stiamo in questo caso facendo riferimento a ruote esterne questa è uguale a meno per ruote esterne perché come vedete omega 1 e omega 2 hanno verso opposto per ruote esterne e questo viene tenuto in conto da questo segno meno puro rotolamento delle primitive qui naturalmente OR1 diviso R2 quindi posso esprimere in questa maniera va bene? e ancora dal proporzionamento modulare noi abbiamo che l'addendum è uguale al modulo quindi in considerazione di queste due formulette noi andiamo a particolarizzare questa formuletta qui che abbiamo appena incorniciato e andiamo a sviluppare con l'obiettivo di ottenere un numero minimo di denti però un numero minimo di denti che è funzione del rapporto di trasmissione e non è legato al caso limite come dicevo prima di accoppiamento rocchetto dentiere va bene? dobbiamo semplicemente sostituire queste qui dentro va bene? e allora allora che cosa che cosa vuoi? il discorso è abbastanza semplice perché come vedete qui abbiamo un R2 su R1 e qui abbiamo meno R1 su R2 quindi vuol dire che qui possiamo andare a sostituire meno 1 su tau ci siete? perché è l'inverso di questo valore e inoltre c'è il segno meno e questa è una prima sostituzione che possiamo che possiamo andare a fare ok allora vi cancello questi passaggi la parte superiore in questo modo e andiamo avanti per giungere alla formula alla formula finale allora il raggio primitivo l'abbiamo detto uguale ad Mz mezzi quindi qui posso scrivere M quadro Z1 quadro diviso 2 diviso 4 avendo sostituito L1 Nz mezzi poi qui ho il sen quadro di teta che va a moltiplicare 1 meno 2 su tau e questo è uguale all'addendum al quadrato che però è uguale al modulo quindi qui ho un M quadro più 2 R2 ma R2 è anch'esso esprimibile in funzione del numero di denti quindi R2 è Mz2 mezzi per l'addendum che è ancora uguale al modulo quindi giungiamo a questa a questa espressione ok? quindi 2,2 vanno via come vedete qui abbiamo un M quadro M quadro ed M quadro quindi posso dividere per M quadro primo e secondo membro quindi queste qui che possiamo che possiamo tenere conto in questo modo e poi qui si tratta di andare a fare un minimo comune multiplo niente quindi qui abbiamo un Z1 quadro sin quadro di teta se il quadro di teta che moltiplica tau meno 2 e quindi ho un 4 teta come minimo comune multiplo quindi qui rimane un 4 teta 4 tau scusate 4 tau e qui rimane un 4 tau z2 eccoci qua un 4 tau z2 eccoci qua perché il rapporto di trasmissione può essere ulteriormente espresso come meno z1 diviso z2 essendo R1 uguale a m01 mezzi e R2 uguale a m02 mezzi può essere espresso naturalmente anche in funzione nuova quindi questo tau z2 in effetti è uguale a meno z1 ci siete? è uguale a meno z1 ok allora a questo punto aggiungiamo a questa a questa relazione la relazione è la seguente la mettiamo in ordine quindi abbiamo un z1 quadro seno al quadrato di teta che moltiplica tau meno 2 questo è diventato meno e quindi diventa più 4z1 meno 4 tau uguale a 0 ok conviene ulteriormente cambiare il segno qui ve la riscrivo per evitare confusione anche se è un passaggio banale quindi questa rimane così se qua moltiplichiamo per meno 1 otteniamo questa cioè 0,1 quadro sen quadro di teta per 2 meno tau meno 4z1 più 4 tau uguale a 0 anche questa vale la pena di incorniciarla faccio in modo tratteggiato perché comunque sono passaggi intermedi non è ancora la formula f va bene? quindi ragionando su questo schema mettendoci nella condizione limite in cui m1 coincide con t1 possiamo scrivere questa relazione dal teorema di Pitagora e con opportuni sviluppi in considerazione di queste due arriviamo a questa relazione cosa viene fuori? è un'equazione di secondo grafo in z1 vedete z1 quadro z1 quindi è un'equazione di secondo grafo siccome a noi interessa z1 perché stiamo andando ad esprimere il numero minimo evidente in funzione dell'apporto di trasmissione in particolare allora dobbiamo risolvere questa equazione di secondo grado allora la prima cosa da fare è andiamo a calcolare il discriminante il discriminante delta e quindi abbiamo b quadro che è uguale a 16 meno 4ac ma qui abbiamo un altro 16 tau per a che sarebbe 2 meno tau per il seno al quadrato di teta va bene? allora possiamo mettere in evidenza il numero 16 quindi viene 1 meno tau tau per 2 meno tau sen quadro di teta ok? e questo è il delta per la risoluzione di questa equazione di secondo grado in zeta 1 va bene? andiamo ora andiamo ora a trovare la soluzione quindi abbiamo 0 a 1 che è il nostro 0 a 1 minimo perché è legato a questa situazione limite va bene? che è uguale equazione di secondo grado quindi meno b che è 4 va bene? qui avremo più o meno ma per la ruota 1 abbiamo la risoluzione con significato fisico il segno più quindi tra più e meno prendiamo più ok? radice di che cosa? di delta che è questo quindi qui dentro abbiamo 16 per 1 meno tau 2 meno tau se è quadro di teta va bene? diviso 2a 2a come coefficiente inizia da 1 quindi abbiamo 2 per 2 meno tau per il seno al quadrato di teta va bene? allora facciamo qualche altro passaggio allora qui abbiamo possiamo mettere un 4 in evidenza qui abbiamo 1 più radice di 1 meno tau 2 meno tau se è quadro di teta diviso 2 per 2 meno tau se è quadro di teta 2 qui rimane un 2 sopra ok? a questo punto vado ad effettuare un'operazione ben nota di razionalizzazione razionalizzazione e cancello qui vado a razionalizzare cioè abbiamo 0,1 minimo che è uguale a 2 che moltiplica 1 più la radice quadrata di 1 meno tau per 2 meno tau per il seno per il seno al quadrato di teta ok? questo li moltiplica questo stesso termine però col segno meno quindi stiamo razionalizzando quindi 1 meno radice di 1 meno tau 2 meno tau se è quadro di teta se è quadro di teta e al denominatore che avevamo 2 tau se è quadro di teta chiaramente questo deve essere moltiplicato per 1 meno radice quadrata di 1 meno tau 2 meno tau seno al quadrato di teta va bene? va bene? ok ancora qualche passaggio naturalmente questa è la somma per differenza giusto? e quindi è uguale alla differenza di 2 quadrati per cui qui rimane 2 differenza di 2 quadrati per cui il quadrato di 1 e 1 meno il quadrato di questo quindi scompare la radice al numeratore la radice al numeratore e qui sarebbe 1 meno tau per 2 meno tau seno al quadrato di teta quindi ci mettiamo la parentesi graffa va bene? differenza di 2 quadrati e naturalmente al denominatore rimane 2 meno tau seno al quadrato di teta seno al quadrato di teta e ancora 1 meno la radice quadrata di 1 meno tau 2 meno tau seno al quadrato di teta ok? questo è quanto abbiamo ottenuto in seguito alla razionalizzazione ok? allora che succede al numeratore? il denominatore non lo riscrivo vediamo il numeratore il numeratore ho 2 che moltiplica 1 meno 1 più tau per 2 meno tau seno al quadrato di teta va bene? va bene? e quindi siamo giunti alla formula finale la formula finale è la seguente cioè z da 1 minimo è uguale a 2 tau diviso diviso meno la radice quadrata di 1 meno tau per 2 meno tau per il seno al quadrato di teta questa è la formula finale questa è la formula finale del numero minimo di denti come vedete in funzione ancora dell'angolo di pressione ma in funzione di tau ok? quindi è molto più generale di quella che abbiamo visto a suo tempo nell'accoppiamento rocchetto dentiere naturalmente noi vogliamo anche verificare che da questa formula è possibile dedurre quella dell'accoppiamento rocchetto dentiere va bene? tenendo conto di questa definizione del rapporto di trasmissione allora se io vado a considerare ora l'accoppiamento rocchetto dentiere in considerazione di questo vuol dire che l'R2 è andato all'infinito quindi situazione rocchetto dentiere vuol dire che il raggio primitivo della ruota 2 va all'infinito e la circonferenza primitiva diventa appunto una retta ma da questa relazione se l'R2 va all'infinito come conseguenza naturalmente la omega 2 è uguale a 0 giusto? tanto è vero che la ruota condotta trasla se si tratta per una grimagliera giusto? trasla quindi la velocità angolare è uguale a 0 comunque derivabile da qui perchè se R2 va all'infinito la omega 2 va bene? ok e quindi questo sta a indicare che anche il rapporto di trasmissione nel caso rocchetto dentiere tau è uguale a 0 con questa definizione allora noi vogliamo vedere se è possibile derivare da questa formula che è quella più generale quella che fa riferimento al caso particolare di rocchetto dentiere cioè se ci ritroviamo con quella determinata e dimostrata a suo tempo però attenzione perché succede una cosa strana perchè se io qui vado a sostituire tau 0 io ho 0 al numeratore va bene? e ho 0 questo termine e poi 1-1 è 0 cioè ho 0 su 0 e quindi ho una forma indeterminata ok? quindi non è sufficiente poter andare semplicemente a sostituire tau uguale a 0 qua dentro perchè naturalmente ci troviamo davanti una formula una forma indeterminata e allora dobbiamo ragionare con l'analisi matematica perchè r2 tende al infinito e quindi tau tende a 0 ok? cioè dobbiamo passare ai limiti va bene? però se anche con i limiti se io vado a fare il limite per tau che tende a 0 di questa funzione e comunque c'è la forma indeterminata ok? quindi io devo rimuovere questa forma indeterminata dall'analisi matematica sapete che questo può essere fatto con il teorema dell'hobital va bene? quindi vado a fare il rapporto delle derivate di queste due funzioni presenti al numeratore e denominatore derivate rispetto naturalmente a tau perchè stiamo considerando la funzione di tau quindi se io vado a considerare il limite per tau che tende a 0 di quella funzione ma vado subito ad applicare il teorema dell'hobital perchè l'abbiamo già detto quindi la derivata del numeratore rispetto a tau è semplicemente 2 ok? dobbiamo andare a fare la derivata del denominatore la derivata del denominatore derivata di 1 e 0 devo fare la derivata di questa radice rispetto a tau c'è un meno fuori che ce lo mettiamo qui per non dimenticarlo e poi diventa la derivata di una radice quadrata quindi a denominatore qui abbiamo due radice della funzione stessa quindi è 1 meno tau per 2 meno tau seno al quadrato di teta va bene? questo al denominatore al numeratore siccome è una funzione composta dobbiamo andare a fare la derivata rispetto a tau di ciò che sta sotto la radice va bene? e la derivata è la seguente perché qui ho anche un prodotto ok? quindi la derivata di 1 è 0 e poi devo andare a derivare l'altro tempo quindi qui ho meno 2 meno tau derivo rispetto alla prima per la derivata della seconda anzi il contrario io ho la derivata della prima per la seconda quindi la derivata di tau è 1 quindi ho 2 meno tau per il seno al quadrato di teta più abbiamo tau seno al quadrato di teta vedete? facendo la derivata di questa va bene? qui la derivata di 1 è 0 la derivata di tau è 1 e quindi rimane meno 2 meno tau sul quadro che è questo ok? e poi devo fare la derivata di questa la derivata di questa è meno 1 quindi il meno scompare diventa più tau sul quadro ok? questa è la derivata quindi abbiamo applicato il teorema dell'Obitan per rimuovere quella forma indeterminata ecco se ora vale a considerare effettivamente il limite di tau che tende a 0 dell'apporto delle derivate al numeratore c'è 2 e quindi non si scappa rimane 2 al denominatore quando tau tende a 0 questo va a 0 tutto questo termine perché c'è tau prodotto va a 0 quindi radice di 1 è 1 per cui qui sotto rimane meno qui c'è un 2 va bene? al numeratore questo va a 0 questo va a 0 rimane meno 2 sen quadro va bene? quindi meno 2 per il seno al quadrato di teta 2 2 si semplifica meno meno diventa più 2 su sen quadro di teta che è esattamente la formula che abbiamo dimostrato a suo tempo a proposito dell'accoppiamento dentro l'obiettola di teta va bene? ok allora questo lo scriviamo in maniera più compatta qui per vostra memoria e quindi abbiamo che per tau che tende a 0 questa formula diventa 0 a 1 minimo diventa 2 sul seno al quadrato di teta come avevamo già dimostrato in maniera diretta nell'accoppiamento di teta va bene? ok quindi io volevo cogliere anche l'occasione su questa sciglia di andare a ricavare un'analoga espressione per quanto riguarda il numero di denti minimo della ruota condotta è chiaro che il pericolo maggiore sta sulla ruota più piccola ma non è detto che non si abbia interferenza anche sull'altra cioè su quella condotta ecco la formuletta è leggermente diversa e può essere derivata da questa quindi la dimostriamo così ce la teniamo a memoria per gli sviluppi successivi allora qui questo lo cancello lo cancello anche qui allora diciamo che la differenza sta nel fatto che se noi ragioniamo sulla ruota condotta possiamo comunque fare riferimento a questa relazione fare riferimento a questa relazione però andiamo a considerare piuttosto che tau l'inverso va bene? perché è come se diventasse motrice l'altra ruota cioè la condotta diventasse motrice quindi il rapporto di trasmissione diventa l'inverso quindi vado a sostituire a tau 1 su tau inoltre quando ragiono sulla ruota 2 qui andiamo a considerare il segno più ricordate che avevamo un più e meno in questo caso andiamo a considerare il segno detto questo quindi z2 minimo è uguale a 2 che moltiplica 1 su tau per quanto appena detto qui ho 1 più radice quadrata radice quadrata di 1 meno 1 su tau che moltiplica 2 meno 1 su tau per il seno al quadrato di teta ok? quindi ho sostituito il tau 1 su tau per i motivi detti va bene? allora questa formula può essere compattata può essere compattata perché qui possiamo fare il meno 1 multiplo abbiamo un tau quadro quindi possiamo ancora fare il meno 1 multiplo con un tau che porto fuori quindi quindi questo tau lo possiamo semplificare sopra quindi è abbastanza semplice ottenere 0,2 minimo che è uguale quindi sopra rimane soltanto 2 qui qui rimane dunque tau più la radice quadrata di tau quadro tau quadro meno tau quadro meno 2 tau meno 1 seno al quadrato di deta questa è un'altra formula da tenere a memoria a mente perché ci consente di calcolare il numero minimo di 20 ritenuto alla ruota 2 piuttosto che alla ruota 1 va bene? ok è contenuta da questa sostituendo tau 1 sul tau e considerando il segno più piuttosto che meno fuori della radice va bene? ok allora questa la possiamo cancellare ok e quindi a questo punto abbiamo queste formule generali che ci consentono di procedere anche con l'esempio numerico allora visto che ci serve il tau in questo caso specifico io posso andare a calcolare il tau con la definizione data prima quindi omega 2 diviso omega 1 per ruota esterne questo è uguale a meno r1 diviso r2 oppure meno z1 diviso 0 2 è la stessa cosa uguale a meno 0,1 diviso 0,2 ma comunque uguale a meno 0,73 in questo caso di questo esempio particolare che stiamo considerando benissimo vi avevo accennato accennato all'inizio della lezione noi procediamo in parallelo quindi abbiamo dimostrato queste formule e procediamo però anche con la parte numerica di questo esempio va bene? è naturale che noi qui come detto prima sicuramente abbiamo interferenza se avessimo fatto riferimento alla formula restrittiva cioè rocchetto dentiera che l'abbiamo anche dimostrata qui che sarebbe 17 io ho un numero identico pari a 11 e 15 quindi sicuramente ho interferenza però ho detto che era una formula molto restrittiva quindi ora che disponiamo di una formula che chiama in causa anche il rapporto di trasmissione oltre che l'angolo di pressione facciamo riferimento a questa quindi andiamo a verificare l'interferenza con queste va bene? e allora scrivo qui abbiamo quindi z1 minimo che è uguale a 2 tau metto direttamente i numeretti qui quindi 2 tau sarebbe 2 per meno 0,73 diviso 1 meno quindi 1 meno radice di 1 meno tau cioè 1 meno tau cioè più 0,73 per 2 meno tau cioè più 0,73 per il seno al quadrato di 20 gradi ci siete? ecco facendo questi conticini viene fuori 13,3 come vedete è un numero molto più piccolo che non il 17 perché il 17 come dicevo è una situazione peggiore caso limite ok? quindi è troppo restrittivo per poter ragionare quando abbiamo un rapporto di trasmissione finito ciò nonostante viene sì più piccolo ma è comunque maggiore di z1 che uguale a 11 quindi questo 13,3 è comunque maggiore di 11 pur essendo molto più piccolo di 17 quindi morale della favola abbiamo interferenza nonostante questo va bene? quindi abbiamo interferenza in realtà abbiamo interferenza con riferimento alla ruota 1 quindi abbiamo l'interferenza in accesso cioè all'inizio del contatto tra i denti perché il contatto inizia qui come detto e finisce in M2 come punto di intersezione della troncatura esterna della ruota 1 con la linea di miglioramento sarebbe diciamo da queste parti qua possiamo dire giusto? quindi abbiamo per il momento verificato che abbiamo interferenza in accesso interferenza in accesso e allora come facciamo? ecco questo è il punto abbiamo interferenza ecco siccome noi vogliamo rispettare il rapporto di trasmissione vogliamo rispettare il numero di denti vogliamo rispettare in questo caso anche l'angolo di pressione allora un modo di procedere come vi ho accennato è fare riferimento alle dentature ribassate va bene? dentature ribassate perché abbiamo una situazione di interferenza in quanto il numero di denti della ruota motrice è maggiore del numero di denti ammissibile per evitare l'interferenza quindi se noi andassimo a sviluppare il disegno di questa coppia di ruota dentate ci verrebbe un punto M1 fuori dal segamento T1 T2 ok? allora andiamo ad introdurre un coefficiente di ribassamento che lo richiamo con alfa che è dato dal rapporto del numero di denti effettivo diviso il numero di denti minimo va bene? nel nostro caso Z1 è 11 diviso il numero minimo che avrete potuto avere che è 13.3 da questo rapporto otteniamo uno 0 827 questo è il coefficiente di ribassamento cioè qual è il ragionamento che sta alla base di questo discorso delle temperature ribassate dire poiché si verifica interferenza il punto M1 cade fuori dal segamento T1 T2 per evitare interferenza io devo in qualche modo portare M1 dentro o quantomeno a coincidere con T1 va bene? cioè devo o spostare o abbassare comunque modificare la troncatura esterna va bene? ed è esattamente quello che si va a fare qui cioè il dente non ha più un proporzionamento modulare ma un proporzionamento diverso cioè vado a modificare il modulo vado a modificare l'altezza del dente cioè addendum e dedendum mi spiego meglio con un disegnino se noi immaginiamo di avere questo dente per esempio dove questa è la primitiva questa è la troncatura interna e questa la troncatura esterna questo sarebbe come detto più volte l'addendum e questo sarebbe il dedendum ora secondo un proporzionamento modulare l'addendum è uguale al modulo e il dedendum è uguale a 1.25 nel modulo ma così abbiamo interferenza e allora Dore qual è il ragionamento? dentature ribassate dentature ribassate vuol dire che io abbasso la troncatura esterna ma alzo diciamo così o aumento la troncatura interna cioè vado ad operare una correzione del proporzionamento modulare quindi alla fine il dente non è più quello iniziale del proporzionamento modulare bensì ha questa forma che vi sto indicando in colore blu colore diverso questo è la forma del dente ribassato va bene? ribassato perché noi andiamo naturalmente a modificare questo dente ma anche il dente dell'altra ruota quindi andiamo ad imporre che l'addendum 1 è uguale all'addendum 2 è uguale non più al modulo bensì a alfa m ma siccome alfa è minore di 1 perchè è 0,827 io ho un valore inferiore dell'addendum diventa più basso diventa più basso analogamente per quanto riguarda il dente 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 va bene? in realtà il modulo è 10 quindi qui otteniamo 8,27 mm per l'addendum e qui otteniamo questo per i 10 sarebbe 12,5 per 0,827 questo viene 10,34 mm e quindi abbiamo ricavato i valori dell'addendum e devendum per le due ruote modificate mediante questo coefficiente di ribassamento va bene? è naturale che in seguito alla modifica dell'addendum e devendum abbiamo modificato i raggi di troncatura esterna e troncatura interna va bene? quindi abbiamo r1 esterno che sarà uguale naturalmente a r1 più alfa m ed è uguale migliori valori numerici a 63,27 analogamente r2 esterno sarà uguale a r2 perché Allora attenzione un attimo perché qui ci deve essere qualcosa che non va, quindi l'addendum è diventato più piccolo quindi qui dovremmo esattamente il contrario, cioè qui dovrei andare a sottrarre αm per quanto riguarda la ruota 1, la troncatura interna invece è aumentata quindi ho un R1 interno che sarebbe R1 più α per 1.25m e l'R2 interno sarà uguale ad R2 più α per 1.25m quindi qui dovete ricavare i valori numerici in virtù di questa cosa, si perché la troncatura esterna diventa il raggio diventa più piccolo perché si abbassa naturalmente e questo qua diventa più grande della troncatura interna quindi dovete considerare i valori numerici non ho il risultato ma sarebbe praticamente l'R1 è 55, questo sarebbe praticamente uguale a 55 meno αm che è 8.27, quest'altro sarebbe R2 che è uguale a 75 meno sempre 8.27 e questo è 55 ancora più questo termine che è 10.34 qui abbiamo 75 più 10.34 ok, raggi di troncatura esterna e raggi di troncatura interna ok, al di là di questi conticini che sono abbastanza banali andiamo a mettere in evidenza che cosa accade operando in questo modo allora, se noi andiamo qui a rappresentare, immaginiamo che questa sia la linea di ingranamento, tanto ormai questo schema l'abbiamo fatto tante volte quindi possiamo fare riferimento direttamente alla linea di ingranamento immaginiamo che questa sia la posizione di P0, centro di istantanea di rotazione abbiamo questi punti di riferimento che sono T1 e per esempio T2 così posizionati sulla linea di ingranamento dunque, come abbiamo detto, si verifica interferenza questo è il motivo per cui andiamo ad effettuare questa correzione la posizione di M1 che, come ho detto, più volte cade fuori va bene? se io vado a fare questa correzione, quindi ho una ho praticamente una troncatura esterna che passava per M1 con la dentatura ribassata, questa troncatura esterna passa per P1 giusto? perché l'ho abbassata e quindi di conseguenza il raggio di troncatura esterno è diventato più piccolo della ruota 2, analogamente della ruota 2 ok? ma la distanza P0M1 corrispondeva naturalmente all'A cioè al segmento di accesso, segmento di imbocco in fase di accesso nel momento in cui io ho portato M1 l'ho portato qui per evitare l'interferenza quindi questo è l'M1 star iniziale poi l'M1 l'ho portato a coincidere con il T1 ripeto per ovviare al fenomeno dell'interferenza e vedete che l'A per forza le cose è diventato più piccolo giusto? si è accorciato nel caso delle dentature ribassate che è quello che stiamo considerando ora noi abbiamo anche un M2 supponiamo che non ci sia per il momento interferenza in fase di recesso quindi immaginiamo che questo sia l'M2 star cioè prima della correzione siccome io la correzione la faccio in questo caso non solo sulla dentatura della motrice ma anche sulla dentatura della condotta quindi io ho abbassato anche la condotta ok? la dentatura della ruota condotta giusto? quindi di conseguenza M1 star è andato più vicino è andato a coincidere con T1 e quindi ho risolto con l'interferenza ma la stessa cosa accade per M2 star anche se non c'è interferenza ok? cioè l'M2 star che è legato all'intersezione della troncatura esterna della ruota 1 con la linea di gradamento questo pure si è spostato in uguale quantità perché? perché io ho effettuato la stessa correzione cioè αM e quindi per esempio è diventato questo ok? quindi qui ho un punto che è il punto M2 e quindi questo punto si è spostato allora che cosa succede? che anche il λR si è ridotto che è questa cioè la lunghezza del segmento di imbocco in fase di recesso e questo è quello che è diventato questo è λA primo questo è λA effettivo ma vi ricordate a proposito della continuità del moto questo abbiamo definito il grado di ricoprimento il grado di ricoprimento è uguale a che cosa? lo abbiamo dimostrato è uguale a λA più λR diviso il passo base cioè diviso il passo per il coseno di t lo abbiamo dimostrato il grado di ricoprimento è quello che tiene conto della continuità del moto e abbiamo detto che deve avere un valore almeno di 1,2 per avere un minimo di sicurezza in merito alla continuità del moto ma nel momento in cui la somma di questi due e quindi il numeratore diminuisce perché questo qui diminuisce in seguito a questo tipo di correzione basato sulle dentature ribassate noi rischiamo di andare a compromettere la continuità del moto e quindi dobbiamo fare attenzione quindi va bene ragionare in questo modo ed elimino l'interferenza ma a patto di andare a verificare la continuità del moto perché potrebbe venire meno per i motivi che abbiamo appena appena precisato ok? allora a questo proposito possiamo definire delle formule specifiche che ci consentono di calcolare per le dentature ribassate la lunghezza del segmento di accesso e la lunghezza del segmento di recesso allora la formuletta dimostrata al suo tempo è la seguente cioè lambda è uguale alla radice quadrata di r2 esterno al quadrato meno r2 quadro coseno quadro di teta meno r2 seno di teta ok? questa l'abbiamo dimostrata a suo tempo per il resto è anche abbastanza semplice da vedere che cosa succede quando andiamo a considerare delle dentature ribassate? delle dentature ribassate diciamo il punto di vista questo sta qui perché quello che noi andiamo a modificare è il raggio di troncatura esterna va bene? i raggi primitivi rimangono uguali perché sono uguali ad m0,5 quindi il modulo è lo stesso quindi non cambia quello che cambia è questo la troncatura esterna perché ho variato la dento che non è più m ma è alfa m ok? benissimo andiamo ad esplicitare questo r2 esterno che è uguale ad r2 più alfa m ok? e a questo proposito r2 sarà uguale ad mz2 mezzi mz2 mezzi più alfa m ok? questa può essere scritta anche in questo modo vabbè questa può rimanere anche così e quindi la nuova espressione dell'ambra di accesso in considerazione della r2 esterna sarà uguale scusatemi ragazzi qui ci è stata una questione no no qui abbiate pazienza questo qui è più era giusto come era prima è sempre più però in realtà è ribassato perché qui c'è un alfa minore di 1 ok? solo che prima era alla fine è ribassato no? si trovate? quindi scusatemi qui ci va sempre più e qui ci va meno quindi era giusto perché comunque viene inferiore perché vado a sommare per un termine che è inferiore di m tant'è vero che alfa m è uguale a 8 e 27 piuttosto che 10 quindi l'r1 esterno è più piccolo dell'r1 esterno che avevamo prima va bene? quindi scusate qui ci va il segno più così come ce l'abbiamo benissimo ok e allora qui non ci rimane altro che andare a sostituire quindi qui abbiamo un r2 più alfa m al quadrato meno meno r2 quadro cosè in quadro in theta va bene? meno r2 se in theta quindi anziché m qui c'è alfa m sostanzialmente questa è l'unica differenza vabbè andiamo a sviluppare questo quadrato quindi abbiamo un r2 quadro più alfa quadro m quadro più 2 r2 alfa m ok? e poi andiamo a sostituire ad r2 appunto a mz quindi qui dobbiamo m quadro z2 quadro quarti più alfa quadro m quadro più 2 alfa m quadro z2 mezzi questo è soltanto relativo a questo termine qua ok? bene? allora vi do l'espressione finale del lambda a nel caso dell'ambra di passate quindi lambda a possiamo scriverlo in questo modo quindi è uguale ad m mezzi per una radice quadrata di z2 quadro seno al quadrato di teta più 4 alfa 0 a 2 2 alfa meno z2 per il seno di teta questa è l'espressione di lambda a questa è l'espressione di lambda a che deriva da questa andando anche qui a sostituire r2 uguale a mz2 mezzi quindi un'analogo di derivazione vale per lambda a r lambda a r devo semplicemente andare a sostituire qui 0 a 2 vediamo 0 a 1 quadro meglio pes passare ilנו di teta più 4 alfa 0 a 1 che èfilled più 4 alfa 0 a 1 più alfa minimo 0 a 1 benissimo di teta qua ... queste sono le espressioni per calcolare λa e λr sono i nuovi valori che dipendono dal valore di α naturalmente per α uguale a 1 ritorno a queste espressioni però in più queste sono già esplicitate in funzione dei parametri tecnici tecnici vuol dire modulo, angolo di pressione e numero identico va bene ok, allora detto questo detto questo andiamo a calcolare sempre procedendo in parallelo qui questo va bene questo va bene quindi andiamo a calcolare allora il λa dopo la correzione fatta con i profili imbassati chiaramente n uguale a 10 z2 abbiamo detto che è uguale a 15 e l'angolo di pressione è uguale a 20 gradi vi do direttamente il risultato che è uguale a 18 70 millimetri in maniera analoga possiamo calcolare il λr da quella formula naturalmente devo tener conto anche di α α è uguale a 0 827 ok quindi λr anche qui vi do il valore numerico che è uguale a 17 70 millimetri ok ma quello che ci interessava alla fine di questo discorso come vi accennavo prima è il grado di ricoprimento cioè andare a verificare poiché se so che il numeratore diminuisce chiaramente vi pongo il problema se la continuità del moto è ancora verificata oppure no ok quindi avendo calcolato ora il nuovo numeratore nel caso nostro specifico il nuovo grado di ricoprimento devo mettere questi numeri qui al numeratore e qui c'ho un impasso lo conosco perché l'ho calcolato che è rimasto uguale ed è uguale a 31,4 se volete ci mettiamo i propri numeri quindi λr è uguale a 18,70 più 17,70 diviso il impasso che è 31,4 per il coseno di 20 gradi il grado di ricoprimento con questi numeri viene uguale a 1,23 quindi come vedete siamo al limite accettabile ma la continuità del moto è ancora garantita va bene? abbiamo 1,23 di solito il valore minimo è 1,2 quindi nonostante siano peggiorate le cose dal punto di vista la continuità del moto ma questa è ancora garantita va bene? facciamo una pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti